Prepararsi all'onda d'urto di richiedenti asilo. Nel 2023 si prevedono tra i 4 e i 500 mila sbarchi in Italia. In Basilicata dovrebbero arrivare circa 5.000 migranti. E il tema su cui lavorerà la cabina di regia tra prefetture, regioni e comuni decisa questa mattina nell'incontro con il commissario per l'emergenza, Valerio Valenti. Se fino ad ora sono stati 500 gli arrivi in regione dall'inizio dell'anno e 2068 le presenze, i numeri potrebbero crescere esponenzialmente dalla settimana prossima. I viaggi sono favoriti dal bel tempo. E allora è caccia strutture per l'ospitalità. Risparmiare i piccoli centri, evitare le grandi concentrazioni e preferire strutture pubbliche. Queste le indicazioni del commissario. E il primo punto è la creazione di cosiddetti hotspot regionali, i siti dove i migranti dovrebbero approdare come prima destinazione. Dalla regione è venuta l'ipotesi dell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, pubblico, con un progetto pronto, con 2 milioni si potrebbero recuperare 350 posti che si aggiungerebbero a quelli del centro di accoglienza abbraccianti. Le alternative immediate possono essere le tende del Catarra Potenza e Matera, un centinaio di posti a testa, ma da integrare con container. Tracce su cui lavorare, mentre è ancora tutta da costruire la seconda accoglienza, quell'ospitalità diffuse in vari centri per i migranti in uscita dagli hotspot. Ma pur nei tempi stretti, per questo c'è un po' più di respiro. Grazie a tutti.